questo è l'ottavo video mi sembra di sentire una macchina magari è il mitico marvin car 2.0 guarda qua fiat c 40 n forse c'è neanche uno che gira i raduni eccetera guarda qua la batteria mai visto strane così sono tipo vecchie guarda qua interno pieno di pannelli e carico guarda qua la gomma e poi qua c'è più recente ma spettacolare comunque Eurostar ora guardiamo da dietro ma se fosse un 520 secondo me non verserebbe in questa condizione no mi sembra che sia in linea e poi qua c'è o le eiro ad model h toccano nemiche italiane coccolino e la qualche bene non so cosa cosa possa essere boh qualcuno conosce mi sembra davvero già detto abbastanza volte scrivete nei commenti mi raccomando qua c'è una campana per aspettare dei morti magari questo qua sarà stato allestimento circo qualcosa così eh blau. un punto niente si vede anche un po' di interno ma dentro è bello camera eh niente qua sento delle dei passi magari è arrivato il claudio nazionale sarà claudio? mmm no e niente qua forse ho già anticipato un po' troppo al prossimo ma ah no er colom ma niente vi vi faccio un altro video 1 1 1 2